Un altro ingresso vincente del Sorriso delle Azzurre e di Miriam Silla. Siamo molto contenti, siamo positive, si è visto, siamo partite male, però siamo stati capaci di riprenderci e quindi faccio un grosso complimento a tutta la squadra, tutte, tutte 14, sono veramente felice ed era un risultato che ci serviva e molto importante. Ecco, tu sei più famosa per i tuoi attacchi, invece oggi hai giocato molto bene anche in ricezione. Ma guarda, non diciamo niente della ricezione che, mamma mia, eh sì, ho fatto bene, però si può fare sempre meglio. Salutino l'Italia. Ciao a tutti, ciao papà, ciao papà. Ciao.